Non aumentare la spesa per le famiglie, rendere più uniformi i contratti per il personale, adeguare le tariffe per gli enti gestori. Sono le finalità della delibera con cui la Giunta regionale ha rivisto il sistema di tariffe per le strutture sociosanitarie, che in Liguria sono centinaia e si occupano di persone anziane o con disabilità, con patologie di natura psichiatrica o problemi di dipendenza. Per le famiglie non cambia nulla se non il fatto che gli enti che gestiscono i servizi sociosanitari avranno maggiori risorse e quindi una maggiore copertura dei costi. Si tratta di un passo verso un riordino generale del sistema della residenzialità sociosanitaria extra ospedaliera e dal risultato del tavolo con enti gestori e sindacati. Stiamo parlando di centinaia di strutture a livello Ligure che operano nel comparto degli anziani, della disabilità, ma ricordiamo anche della psichiatria e delle dipendenze. A fronte di centinaia di strutture ci sono migliaia di persone che vi lavorano naturalmente. Dobbiamo riconoscere a Regione Liguria che in questo ultimo anno ha fatto un cambio di passo nell'affrontare questo problema. Le tariffe sono ferme, erano ferme al 2012. Nel frattempo cosa è accaduto? Ci sono stati numerosi rinnovi contrattuali per il personale e poi come sappiamo tutti a partire dal tempo Covid sono aumentati anche i costi delle materie prime, delle utenze. Questo lavoro è andato ad analizzare quelli che sono i veri e propri costi che compongono i nostri servizi. Abbiamo lavorato insieme come rappresentanti degli enti gestori con Regione Liguria, con Alisa e novità degli ultimi tempi in un gruppo comune in cui erano presenti anche le organizzazioni sindacali. In Liguria queste strutture offrono 35 tipi di servizi diversi. La determinazione dei costi ha dunque tenuto conto della variabilità delle diverse situazioni, mentre è stata raccomandata la scelta di utilizzare i contratti maggiormente rappresentativi per andare incontro alle esigenze dei lavoratori del settore e sfoltire la molteplicità dei contratti in uso. La delibera prevede ulteriori tavoli tecnici che riguardano i centri digurni per persone anziane con Alzheimer e quelli che sostengono le persone con disabilità. Lo standard non è così semplice da individuare. Per alcuni servizi c'è ancora bisogno di fare un'operazione di regolazione fine, ma Regione Liguria in questa delibera si è impegnato a farla in tempi anche ragionevolmente brevi. Per quello che riguarda i servizi per i disabili e Regione Liguria già a luglio si è impegnata a sviluppare dei tavoli di approfondimento sul tema dei centri diurni per anziani. Una risorsa straordinaria, possono essere una risorsa straordinaria per le famiglie, ma oggi non sono sostenuti adeguatamente da un punto di vista economico.